Il mondo di Anthem si è imbiancato. In tempo per le festività natalizie Bioware ha ritenuto giusto spalare neve in giro con una cazzuola, Fort Tarsis inclusa. Non si tratta per fortuna solo di modifiche estetiche, infatti sono stati aggiunti nuovi contenuti, nuove sfide, cosmetici, quest giornaliere, settimanali. Lo store stagionale fornisce adesso leggendari di massimo livello il che è positivo. E a questo punto uno potrebbe dire ma come il gioco è in una condizione drammatica e voi perdete tempo a imbiancare? Una domanda lecita e passerò a esprimervi più avanti il mio punto di vista che ha a che fare con la mia nonna che è morta. Ad ogni modo tornando ad Anthem ci sono due nuovi eventi disponibili andandosene in giro in gioco libero e si chiamano Time Trials e Ice Flower Frenzy. Come i più brillanti tra voi avranno intuito i Time Trials sono delle vere e proprie corse a bordo dei Javelin. Si vola, si va a piedi e sono circuiti piuttosto lunghi e piacevolmente impegnativi. Strada facendo incontreremo ostacoli di vario genere e un'attività progettata con un certo criterio. Quindi sì, Anthem ha le corse mentre Destiny 2 è ancora senza gare degli Sparrow. Ice Flower Frenzy è a sua volta abbastanza divertente. Andandocene in giro per la mappa troveremo queste enormi sfere di ghiaccio dentro cui si svolge l'evento vero e proprio. Una volta all'interno dovremo semplicemente trasportare una sorta di liquido refrigerante a un particolare macchinario. Mentre trasporteremo questo liquido saremo rallentati, non potremo volare e una carrettata di avversari cercherà di farci la pelle. Quindi in entrambi i casi abbiamo delle attività piuttosto semplici, molto accessibili. Sono diversivi piacevoli e ricompensano con un buon numero di cristalli che andremo poi a spendere nello store stagionale. E ci sono poi anche le roccaforti in variante stagionale dovrebbero ruotare settimanalmente. Sono pur sempre le vecchie roccaforti ma sono state modificate per l'occasione. Bioware ha sfruttato l'esperienza maturata con il cataclisma e ha inserito una serie di chicche in più all'interno dei dungeon. Abbiamo ovviamente timer e punteggio ma ci sono anche le classiche sfere da raccogliere, semi nascoste nell'ambientazione. Ed è un ottimo pretesto per andarsene in giro in aree solitamente poco battute. In questo modo potremo incrementare il punteggio correndo intanto verso il boss per ottenere un modificatore elevato. Ci saranno anche una serie di puzzle addizionali, tutti di facile comprensione tipo le pedane a pressione dove dovremo andare a metterci per disabilitare dei campi di forza. Anche in questo caso concept tratti dal cataclisma che comunque era abbastanza divertente. Too little, too late, però divertente. Bioware ha trovato anche il tempo di nascondere in giro per la mappa una sfilza di decorazioni natalizie e raccogliendole sbloccheremo un achievement nella categoria dei collezionabili. Bene così. E adesso la domanda vera. Perché sbattersi ad aggiornare texture e introdurre eventi quando la community è quasi inesistente? Perché togliere forza lavoro al team che a quanto pare sta rifacendo il gioco per intero non è una cosa controproducente? Dunque potrebbe esserlo, potrebbe essere controproducente, però anche no. Quindi pensiamo per favore un attimo a mia nonna morta e a mia zia Gwendalina. Mia nonna morta prima di morire era viva in un letto di ospedale e mia zia Gwendalina le teneva la manina. Quindi immaginate mia nonna in coma con un respiratore attaccato e macchinetta lì accanto che fa bip, bip, bip. Ecco questo è Anthem. Mia zia Gwendalina che le teneva la manina e non si staccava di lì anche sotto minaccia di defenestrazione e la community fedele al gioco. Che è una community piccola, sia ben chiaro, perché in ospedale ci andava soltanto mia zia Gwendalina, gli altri fratelli e sorelle sapevano che a 96 anni non c'era più moltissimo da fare. Una storia drammatica. Ad ogni modo, l'aggiornamento invernale di Anthem è mia nonna in coma con respiratore che a un certo punto fa un rantolo tipo... che non significa niente, magari c'ha pure un'esofagite, non so di che cavolo stia morendo, c'ha 96 anni, porco il clero. Ad ogni modo è un suono, un rantolo, un segno di vita. Succede una di quelle cose che succedono durante il coma. Mia nonna stringe per un attimo la mano a sua volta. Magari un riflesso condizionato, magari uno spasmo muscolare, magari un colpo di sonno di zia Gwendalina che si convince di quello che vuole. Il punto è che viene interpretato come un segno di vita e mia zia va in delirio mistico. Oh mio dio, mi ha stretto la manina, vuol dire che si sta riprendendo! No signora, non è successo niente, è stato soltanto un riflesso muscolare. Sua madre sta ancora morendo. E lei? Nooo, mi ha stretto la manina! Ecco, questo viene interpretato come un messaggio, significa che il gioco è ancora vivo, che sta succedendo qualcosa, che c'è supporto ed è un motivo valido per continuare a tenere la manina. E fare questo genere di cose da parte di Bioware non è sbagliato, perché se deve esserci davvero un rilancio di Anthem, la parte di community che non ha abbandonato il gioco sarà pubblicità gratuita. Saranno persone che andranno in giro sui forum, sui social, dagli amici, a portare la lieta novella. Rappresenteranno uno zoccolo duro che sarà più incline a parlare bene del gioco e magari anche a spendere in DLC e microtransazioni, a dare il buon esempio, se così vogliamo dire. Quindi, per quanto possa trattarsi di un aggiornamento che non stravolge nessun equilibrio, Anthem continua comunque in questa sorta di vita assistita, in questa sorta di coma dove ogni tanto dà una stretta di mano. Fatevi un giro ragazzi, provate i contenuti perché non sono male, anzi, personalmente mi sono anche divertito, per un po'. E va bene ragazzi, per questo aggiornamento è tutto, come al solito vi invito a condividere, lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella e noi ci risentiamo. Alla prossima. Ciao nonna, mi manchi!